74 ore e 59 minuti trascorsi sulla Luna a raccogliere campioni di suolo. Tanto durò la missione lunare Apollo 17 e un frammento di basalto, poco più grande di un centimetro, venne anche donato successivamente da Richard Nixon all'Italia. Ora è conservato al Museo della Scienza di Milano. Con il rientro di Apollo 17 si conclude la fase epica delle missioni lunari. Avviata da John Fitzgerald Kennedy per controbattere la supremazia sovietica, portò 12 astronauti a calcare il suolo della Luna. Poi si è deciso di sospendere le missioni. La competizione spaziale tra Unione Sovietica e Stati Uniti ha lasciato spazio a nuovi protagonisti, in questo momento la Cina, il cui obiettivo non è solo la Luna, ma arrivare su Marte.